Quindi questo è fondamentale. Chiunque compili deve comunque essere responsabile per poter inviare il questionario. Per quanto riguarda l'inserimento nel database tramite speed, inserite il vostro codice fiscale nella form, quindi non ci sono problemi, associatevi al museo di pertinenza. Ecco, questi passaggi, lo speed e quant'altro ovviamente sono necessari perché stiamo parlando di una autocertificazione con tutto quello che comporta, cioè le informazioni sono certificate in forma ufficiale. Quindi non dico che hanno un valore legale, ma direi che nel nostro ambito assolutamente sì. Provo a leggere per tutti noi alcune domande che stanno… Aspetta Maria Pia, un attimo, volevo solo dire che le segnalazioni ovviamente possono inviarle a sistema museale regionale chiocciolaregione.emilia-romagna.it, magari ve la scrivo in chat. Come detto, siamo a vostra disposizione da adesso fino al 30 novembre per rispondere su questi. Magari non fatelo proprio il 30 novembre, via, perché è un meccanismo complicato e quindi partite un po' prima. Provo a leggere qualche domanda. Allora, buongiorno, come si deve procedere non avendo ancora codice ISTAT essendo un museo di nuova costituzione? Ecco. Aspetta Maria Pia, perché ce n'è una più su. Si può compilare e salvare mano a mano che lo si compila? Sì, no, no, questo abbiamo già risposto, a quelle a cui abbiamo già risposto io e Erika le saltavo, diciamo, abbiamo risposto sulla ciasta. Poi se non era una risposta chiara ce lo ridite. Qua ancora, Bruno Pagnutti, non capisco come faccio ad assegnare il mio museo essendo nuovo. Questo immagino che sia la stessa domanda come quella successiva, cioè nel caso di musei che non abbiano ancora il codice ISTAT. Allora, comunque… Beh, magari se ce lo segnalano alla mail del sistema regionale, poi vediamo un attimo. Perché i musei che trovate inseriti dentro alla piattaforma sono quelli censiti all'interno del catalogo del patrimonio e tramite appunto anche l'ISTAT. Quindi è un insieme di ISTAT e censimento Pater. Quindi se non si trova né nell'uno né nell'altro bisogna che ci mandate una segnalazione via mail. Sì, perché qui entriamo anche in un campo delicato, cioè la certificazione di museo ovviamente non è che possa essere sempre solo un'autocertificazione. Quindi qui bisogna vedere di che istituzione si tratta. Quindi magari partiamo subito, verifichiamo che cosa si può fare in quel caso. E anche il regolamento, se il nuovo regolamento è in corso di approvazione si può ugualmente far domanda di accreditamento? Sì, io lì avevo già risposto, cioè ovviamente in quel caso varrà il regolamento valido al 30 novembre. Insomma, se c'è un altro regolamento più aggiornato, ma questo è abbastanza normale che possa capitare, si può segnalare nelle note l'importante che il regolamento comunque ci sia. E la descrizione del regolamento che poi vi verrà richiesta nelle prime domande, ovviamente deve riferirsi al regolamento in vigore al momento della compilazione del questionario. Evidentemente è un tema che preoccupa perché sempre Andrea Bisi ti chiede se per caso l'accreditamento non venisse accettato, esiste un'ulteriore possibilità futura. Certo che sì, noi pensiamo di aprire una finestra per l'accreditamento almeno una volta all'anno. Anzi, come avete visto e come avevamo promesso anche durante le primissime fasi dell'accreditamento, in questo 2022 le finestre sono state due di fatto. Diciamo che molto probabilmente dal prossimo anno ci attesteremo su una sola finestra all'anno, però sì, sarà, come avevo accennato, un processo che continua nel tempo, anche perché ad esempio fra tre anni i musei che sono oggi accreditati non lo saranno più, dovranno ricominciare diciamo l'iter. Vediamo se ci sono altre domande. Posso avere ulteriori informazioni per codice ISTAT e censimento? No, non capisco. Dunque il codice ISTAT viene ovviamente assegnato dall'ISTAT, ma è un percorso che in genere facciamo anche assieme. naturalmente c'è una valutazione che parte anche dal settore patrimonio culturale sulla nuova istituzione che si propone, che deve avere un minimo in partenza di caratteristiche e di operatività per essere definita appunto un museo. Da questo punto di vista l'ISTAT è più selettivo di noi. Noi ci siamo accorti che l'ISTAT presenta una lista di musei in regione che tutti compresi non arriva ai 500. Noi invece ne consideriamo tali, almeno al momento, considerati anche gli universitari e gli statali intorno ai 580. Poi, quindi insomma, non è un percorso immediato, ma d'altro canto non è che uno si possa svegliare una mattina e dire io sono un museo. Questo è, insomma. Buongiorno, chi invia la pratica deve quindi essere il legale rappresentante del museo? Non posso farlo io in qualità di impiegata? Se chi compila il form, questo è simile, di adesione, ha la responsabilità di inviare poi il questionario. Non è necessario che lo faccia il dirigente di settore? Ho capito bene? No, no, non è così. Allora, noi abbiamo, al contrario della prima finestra, in cui poteva essere solo il responsabile legale dell'istituzione, della struttura, a compilare e inviare il questionario, cercato di ampliare, venire in conto alle esigenze di chi, ad esempio, aveva situazioni diverse, per cui può essere qualcuno di diverso dal responsabile legale, un operatore, un funzionario non responsabile, che compila il questionario, ma l'invio può essere fatto solo dal responsabile legale della struttura. proprio perché, come ripeto prima, stiamo parlando di autocertificazione, cioè di un processo che ha un valore legale. Altro. Non sono ufficialmente responsabile del museo, sono istruttore direttivo bibliotecario responsabile archivio storico. Posso compilare a mio nome la richiesta o devo inserire responsabile di settore? Allora, anche qui la stessa risposta di prima, cioè la compilazione può avvenire dopo aver chiesto l'accesso, quello che vi ha spiegato Beatrice prima, anche da parte sua, però l'invio in forma ufficiale del questionario lo può fare soltanto il responsabile ufficiale del museo. L'accesso deve essere fatto con lo speed del legale se poi l'invio deve essere fatto dal legale rappresentante? Allora, l'accesso sì, nel senso che essendo utenti già abilitati all'invio finale del questionario, già dalla compilazione del form, sì. Poi se io do la mia identità speed a un collaboratore che compila e poi lo invia, questa è responsabilità vostra, però il tutto deve essere garantito e deve essere assolutamente inviato in fase finale, ma anche come iscrizione iniziale dall'identità speed del direttore o del responsabile. Non è più come la scorsa finestra di accreditamento che magari uno compilava e l'altro alla fine inviava con lo speed. No, ecco, adesso l'accesso e l'invio è lo stesso praticamente. Non so se è chiaro. Se è chiaro scrivete qualcos'altro in chat se non fosse chiaro. Intanto io vi copio l'indirizzo del quadro. E' assolutamente indispensabile che ci sia un legale rappresentante a gestire il percorso proprio perché ha un'ufficialità questo percorso. Adesso ho incollato appunto la schermata del form principale che serve proprio per far l'accesso. Tramite speed infatti viene richiesto il codice fiscale. E poi in automatico arriva la mail, come ho detto prima, della venuta iscrizione e poi si può entrare nella piattaforma. No, no, non ne occorre la firma digitale perché è tutto garantito dallo speed, dall'accesso con speed, quindi non serve alcuna firma. La firma è lo speed di fatto, insomma. E l'avvenuta protocollazione, mi raccomando, perché poi nella precedente finestra di accreditamento alcuni erano convinti di aver inviato il questionario ma avevano completato il questionario ma non avevano fatto l'invio a regione e quindi non avendo protocollato tutto il questionario noi non abbiamo potuto fare l'istruttoria perché è solo così che possiamo procedere a fare l'istruttoria. C'è Monica Patera, vuoi rispondere anche a Monica Patera? Patera, scusate, non so l'accento. Sostanzialmente dovrà accreditarsi il dirigente ma anche l'eventuale dipendente o funzionario per la compilazione. Dovrà accreditarsi il dirigente perché garantisce che i dati dall'inizio alla fine siano quelli e quindi tutto il processo deve farlo, deve essere fatto con lo speed del direttore dirigente o quello che è. Poi se al vostro interno c'è un impiegato che compila, questo è una, diciamo, un'organizzazione vostra interna. Per noi l'importante per prendere in considerazione la domanda e poter procedere all'istruttoria è assolutamente necessario che i dati siano validati dal dirigente o dal direttore e poi soprattutto che venga inviato il questionario compilato al protocollo. Quindi dovete avere anche quella mail finale che vi dice che è stato protocollato. Poi come ha detto Erika, se fallisce il primo invio perché magari c'è una caduta di collegamento in quel momento, il sistema comunque ritenta, però mi raccomando andate a controllare di aver ricevuto la mail e che il questionario sia stato protocollato perché altrimenti noi non possiamo procedere poi dopo. Parlo da azienda privata, il legale rappresentante è AD per GDPR, io da referente per la compilazione non potrei avere accesso al suo speed. Questo è un problema. È un problema, sì. In realtà poi si tratta di inserire il codice fiscale nella schermata, diciamo quella di accesso, cioè a lui fondamentalmente non è che comporta nulla nel senso che si tratta di fare l'iscrizione, poi lei può compilare il questionario e essendo già dentro come lui lo invia, quindi poi alla fine non è che… Ma una casa museo deve accreditarsi ai musei regionali essendo una realtà comunque diversa? Allora, abbiamo affrontato anche questo problema durante il percorso precedente. Questo può essere un vantaggio, cioè noi abbiamo già fra i musei accreditati delle case museo che hanno fatto il doppio percorso, poi sono come sappiamo e nel senso migliore del termine situazioni ibride perché in molti casi sono musei a tutti gli effetti, in altri casi diciamo sono al limite, però il fatto di provare l'accreditamento è ovviamente pienamente ammesso, tant'è vero che queste strutture hanno poi anche un codice ISTAT o un codice Pater nostro, quindi sono già musei per noi, non sono magari ancora tutte accreditate. Ah, nei musei comunali il legale rappresentante non è il sindaco? No, non sempre, cioè, parlo dei musei di Bologna, ciascuno ha un direttore, così in altre situazioni. Casa Covilli, casa museo privata e abitata. Ah, e questo dovete decidere voi quanto questa casa museo sia anche un museo. Allora, non a caso avete visto che noi abbiamo inserito fra i materiali di accesso dal sito un esempio del questionario, perché leggervelo è già significativo, nel senso che comprenderete anche solo ad una prima lettura quali sono, qual è il livello di criteri richiesti a un museo accreditato per poter essere considerato tale. Se non ci sono, insomma, se vi accorgete subito che non ci sono un minimo di questi criteri, dalla presenza di statuti, regolamenti, di un minimo di personale qualificato, al numero dell'orario di apertura, è chiaro che è molto probabile che la struttura possa non essere accreditata, ma dipende dalle vostre caratteristiche, insomma. Quindi se faccio la creazione utente e non trovo il museo che voglio accreditare, non posso procedere, ho capito bene? Sì, ha capito bene perché non si può creare dentro la piattaforma, quindi bisogna che ci manda una segnalazione, spero di aver scritto bene la mail, con tutti i dati e poi vediamo se crea… Sì, sì, poi lì il problema proprio è ab origine, cioè se considerare questa struttura un museo, quindi diciamo che è un percorso ancora da iniziare, che però si può fare tranquillamente, non è che sia impossibile. Anzi, come ho detto prima, l'insieme dei musei è quanto mai flessibile in espansione, in contrazione. Non arrivano più domande, quindi o siamo stati troppo chiari? Si aspettiamo ancora, no, o sono troppo perplessi. O troppo perplessi o troppo chiari? No, ma io consiglio tutti, cioè sicuramente le informazioni che vi abbiamo dato forzatamente sono tante, non spaventatevi, intanto perché appunto avrete la possibilità di riascoltare con calma tutto quanto è stato detto e soprattutto perché c'è un'efficientissima segreteria, che siamo poi sempre tutti noi, che vi seguirà passo passo da adesso in poi. Ecco, l'unica cosa, quando mandate delle segnalazioni, per favore, nell'oggetto della mail, scrivete segnalazione accreditamento, perché altrimenti ce ne arrivano tante e noi poi ovviamente magari potremmo anche rischiare di non vederle. Sì, sì, comunque per, ecco, per nostra comodità, ma in genere insomma rispondiamo qui sempre, anzi sicuramente rispondiamo a tutte. Ehm, ecco. Se il museo fa capo ad una fondazione, il documento economico finanziario fa capo alla fondazione, non serve un ulteriore documento. Cioè, sì, però va segnalato questo ovviamente nel questionario, dove vedrà che si chiedono dei, ehm, dei dati specifici sulla gestione economico finanziaria, si deve segnalare, ehm, come funziona questa, ehm, questa gestione che naturalmente può essere sia pubblica che privata. Eh, non c'è, non c'è differenza a questo. Eh, condivido un attimo che faccio vedere il campo. Allora, alla fine di ogni quadro, quindi di organizzazione, collezioni e comunicazione, trovate, eh, ovviamente per me adesso è inibito, perché io questo l'ho protocollato, quindi non ci potrei entrare più dentro. Però nel campo note, eh, potete inserire tutte le, eh, le situazioni, diciamo, che non coincidono esattamente con quello che ha richiesto dentro al questionario. Quindi questo è il campo. E ne troverete, ahimè, perché come dicevo prima, un questionario è forzatamente rigido, quindi non può esprimere la varietà delle situazioni. Noi, rispetto al questionario in uso presso il Ministero, abbiamo anzi cercato proprio di renderlo un pochino più parlante e flessibile in questa direzione, inserendo i campi di info, inserendo campi di note. Allora, l'indirizzo, eh, delle eventuali comunicazioni è già stato scritto e lo ripeto, eh, lo trovate nella, nella chat, adesso è stato riscritto, ve lo ridico, ma lo trovate anche nella pagina, eh, web ed è molto semplice, sistema museale regionale, senza punti, senza niente per esteso, e poi il solito dominio della regione, chiocciolaregione.emiglia-romagna.it. Quindi sistema museale regionale. Perché forse qualcuno si è collegato adesso, che non ha messo qualcuno, forse non l'avevano visto. Comunque l'abbiamo scritto un tot di volte. Qua comunque trovate, lo riscrivo per chi è arrivato da poco, ecco, le informazioni, eh, e il pdf del questionario, eh, da scaricare. Ecco, un consiglio davvero, anche se non avete, eh, tempo o preventivato di, eh, compilare, eh, fin da subito, di provare l'accreditamento, eh, consigliamo assolutamente di, eh, stamparvi e guardarvi il questionario in precedenza, perché solo allora vedrete che verranno fuori dubbi, le domande, eh, quindi fatelo ben prima, insomma, della compilazione effettiva. Adesso mi voglio spaventare, si fa, eh, sono poi dati che in realtà il museo, eh, ha in pancia tutti, eh, oltretutto, eh, si richiedono pochissimi allegati, cioè non ci sono, è appunto un'autocertificazione, quello che scrivete, sì, no, questo, quest'altro, vale come dichiarazione ufficiale, ma non pretendiamo delle pezze di appoggio al di là del, eh, regolamento, eh, statuto, quindi anche questo è un vantaggio, eh, che mi sembra non, non irrisorio. Eh, se non ci sono altre, altre domande, ma eccola qui. Sì, come allegati, gli unici allegati che noi richiediamo sono lo statuto del regolamento, non che noi, perché tutto il sistema museale nazionale richiede obbligatoriamente, è lo statuto del regolamento. Cioè non vi richiediamo un documento finanziario, ad esempio, in allegato. O i contratti del personale, tutto questo non c'è, quindi questo non dovrete assolutamente farlo. Se non ci sono altre domande specifiche, magari aspettiamo ancora un altro paio di minuti, e poi si vedrà, eventualmente può essere anche prevista un'ulteriore domanda, se vedremo che un'ulteriore giornata di informativa, se vedremo che le domande poi saranno molte, anche per email e magari raggruppabili in tematiche specifiche. e ribadisco, guardatevi se il questionario... Mi sembra che forse non ci sia più altro, sicuramente. verrà fuori, magari alcune domande saranno molto specifiche rispetto a realtà determinate, e comunque così come è successo durante la prima finestra di accreditamento, insomma una soluzione la troviamo sempre. e ci siamo da adesso in poi, però prima fatto per... Dunque questa è una domanda o un'affermazione? Presumo che sia una domanda, cioè per essere considerati un vero museo, come dire, la mancanza di personale assunto è già un handicap in partenza, ai sensi di qualsiasi tipo di considerazione, come si voglia partire da lì, come dalle definizioni ufficiali, insomma... Assolutamente sì, è ovvio, ma se guardate il questionario vi renderete conto che non solo il museo deve avere personale specifico, ma è un personale dotato di competenze specifiche. Poi magari la stessa persona può svolgere più ruoli, diciamo così, però ci devono essere, e anche piuttosto disversificate, come vedrete. E d'altro canto il museo non è fatto come abbiamo ormai imparato tutti quanti da una serie di oggetti, ma soprattutto dalle persone che lo fanno e da quelle che lo visitano. È questo insieme che crea il museo e non una stanza che ospita oggetti, insomma. Ancora qui, non basta, cioè una sola persona, e però anche qui guardatevi com'è il questionario e com'è articolato proprio. Su questo c'è stata una lunga discussione, anche battaglia se vogliamo, da parte di ICOM, proprio perché i musei, e da parte della regione Emilia-Romagna, intendiamoci, i musei fossero dotati di personale qualificato e stabile. Se le competenze sono in capo a diverse persone, è impossibile averli tutti a busta paga. Non capisco, forse non mi sono espressa bene, cioè voglio dire che alcune delle competenze richieste, che come vedrete sono molteplici, dalla responsabile della comunicazione, al responsabile dei processi educativi, al responsabile del marketing territoriale, del crowdfunding, al responsabile della gestione amministrativa. Ecco, una stessa persona può svolgere più ruoli, cioè essere sia un responsabile della comunicazione, sia un responsabile dei rapporti educativi. Questo succede. O ancora, nel caso ad esempio delle istituzioni, delle reti museali, c'è un responsabile della comunicazione che si occupa della comunicazione per più istituzioni. Ma è sempre a busta paga? Ripeto, questi standard, perché sono veri e propri standard, cioè il fatto di un museo che abbia il regolamento, che sia adottato di un bilancio autonomo, che abbia un personale che incarni competenze diversificate, ormai indispensabili all'interno di un museo, perché possa essere definite tali. non sono stabilite da noi come gruppo del sistema museale regionale, ovviamente, ma sono a livello nazionale e internazionale. Capiamo perfettamente che nei casi qua c'è questo commento di Andrea Birisi, dei piccoli musei si stenti ad avere la possibilità di una diversificazione di figure così ampia. Spesso la comunicazione per un museo viene gestita da quella persona, ad esempio parlo dei piccoli comuni, che se ne occupa un po' per tutto il comune, e questo spesso ce lo facciamo bastare, come dire, capiamo perfettamente che non tutti possono essere gli uffizi o il louvre, però questa considerazione deve cominciare a passare nella concezione del museo anche ad essere diffusa pienamente sul territorio. Poi, ovviamente, c'è la possibilità di intervenire in questi casi, ma questo è un processo che va creato, ma è esattamente quello a cui alludeva Cristina Ambrosini quando ha fatto riferimento alle reti museali. Cioè, noi riteniamo che sicuramente quello possa essere una soluzione proprio per problemi di questo tipo. E siamo intenzionati a favorirla. Allora, abbiamo toccato un nervo scoperto e lo sappiamo perfettamente che è quello poi del personale del museo che naturalmente intendiamo poi riprendere anche al di fuori del processo dell'accreditamento. Ecco, comunque, vedo che veniamo sulla stessa linea. Certo, è più che corretto anche per i cosiddetti, per i volontari stessi, nel senso che spesso magari si tratta di figure di giovani laureati o che, insomma, entriamo in una zona grigia nella quale ci si deve muovere con molta attenzione e cerchiamo ovviamente di venire incontro tutti quanti collettivamente a questi problemi. Allora, se non ci sono altri commenti o interazioni io a questo punto forse chiuderei. Cristina, se sei ancora in collegamento se vogliamo dare un saluto finale ma è solo un arrivederci credo perché vedrete che le domande poi ci saranno e ci auguriamo che ci siano perché davvero, insomma, speriamo che questa pattuglia di 102 musei accreditati alla fine dell'anno sia sostanzialmente più numerosa questo è quello a cui vogliamo arrivare se non ci arriviamo subito ci arriveremo fra un anno o fra due anni ma insomma questo è quello a cui vogliamo tendere. Ci risentiamo quindi o telefonicamente o per email laddove e tutte le volte che avete bisogno buon lavoro davvero e arrivederci a presto. Grazie a tutti.